La riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta nei giorni scorsi nel Vallo di Diano, pur lasciando nella delusione totale i cittadini, ha visto comunque la Prefettura di Salerno attivarsi per migliorare le condizioni di sicurezza delle comunità locali. Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza con accelerazione delle procedure per l'approvazione dei progetti presentati dai comuni e potenziamento della presenza delle forze dell'Ordine sul territorio sono due delle azioni messe in campo a tutela delle comunità contro il dilagare di furti e rapine. Nei giorni scorsi tre casi di rapine e tentate rapine hanno alimentato ancora più la paura nel Vallo di Diano, anche perché i reati si sono consumati a distanza di poche ore l'uno dall'altro. La rapina presso l'Istituto Bancario di Atena a Lucana dove è stato scassinato un bancomat. La tentata rapina ai danni di un portavalori giunto davanti all'ufficio postale della centralissima via Mezzacapo di Sala Consilina, peraltro in un orario in cui il centro è particolarmente popolato, mettendo anche a rischio la vita di un residente intento a svolgere delle operazioni allo sportello automatico. E malviventi che hanno tentato anche di mettere a segno una rapina presso l'ufficio dell'Agenzia Compass, sempre a Sala Consilina. Una serie di fatti che vedono al lavoro le forze dell'Ordine che, per le indagini, possono anche contare sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste lungo tutto il territorio. Immagini che hanno consentito di individuare autosospette che risultano peraltro rubate. Una serie di vicende che già all'indomani dell'incontro presso il polo Cappuccini avevano spinto ad aumentare l'attenzione ai controlli sul territorio, disponendo l'arrivo di militari specializzati. Da alcuni giorni infatti, nel Vallo di Diano, sono operativi cinque carabinieri della squadra di intervento operativo a supporto dei militari in servizio sul territorio guidati dal capitano Roberto Bertini. Inoltre, le telecamere di videosorveglianza presenti saranno ulteriormente incrementate in tutta la provincia di Salerno, come annunciato dal prefetto. Sono 59 comuni salernitani che si sono visti approvare i progetti per incrementare gli impianti di videosorveglianza. Per il Vallo di Diano sono sette comuni beneficiari, ossia Sala Consilina, Montesano sulla Marcellana, Casa al Buono, Padula, Monte San Giacomo, Polla e Sant'Arsenio. A questi si aggiunge anche Buon Abitacolo, che ha presentato il progetto in associazione con il comune di Caselle e Impittari. Potenziamento della videosorveglianza anche nel Golfo di Policastro per i progetti presentati dai comuni di Santa Marina, Camerota e in associazione Vibonati e Torraca. Arriva dunque la risposta del prefetto di Salerno agli allarmi lanciati nel corso del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblico, nel corso del quale, in particolare il sindaco e presidente della comunità montana Vallo di Diano, Francesco Cavallone, aveva sottolineato come per il territorio la percezione di insicurezza e scarsa protezione era alta, pur se i dati parlavano di numeri irrisori e mai sul territorio si erano registrati così tanti reati.